Qui era a scuola? Sì. Sì. Eri molto carina. È vero. Sono d'accordo. Adoro le foto di classe. Ne avete altre? No. No. Peccato. È un esemplare unico. E come mai? Nella sua classe era l'unica di colore. E per questo sistematicamente si rifiutava di posare per la foto annuale. E allora noi le abbiamo spiegato che non c'era niente di strano perché lei era stata adottata, però è stato inutile. Un gran brutto carattere. Vero, patatina mia? Non ne avete qualcun'altra? Di cosa? Di foto di Agat. Ah sì. Dei compleanni, delle vacanze. Siamo pieni. Ah. E posso vederle? No. No, gliele farei vedere, ma le abbiamo messe via. Non sappiamo più dove... Mio padre non è mai stato molto ordinato. In quella confusione solo lui ci capisce qualcosa. Per mia grande fortuna ho una moglie molto ordinata. Ah, si dice che i contrari si attirino. Ti faccio vedere la casa, eh? Che... No.